Sveglia! Svegliati! Ha una faccia conosciuta! Che vuoi Tony? Presenteremo una nuova tecnologia! Ma sono stanco! Ti do una bevanda energetica! Dai, ma non voglio prendermi un virus! Versa qui! Dai, sbrighiamoci! Ci deve essere un problema col programma! Dovrò aggiustarlo! Va ti affidare della tecnologia! Ma che fai? Devo cambiare un'impostazione! A presto! A presto!